L'arte, in ogni sua forma e linguaggio, al servizio di chi ha una storia da raccontare, un frammento del proprio mondo da far conoscere, attraverso un dialogo continuo fra le persone. E' l'idea che sta alla base di Collisioni, una festa di parole e musica ambientata a novello, suggestivo paese nel cuore delle langhe. E' un'idea che è nata dal basso, da un gruppo di ragazzi del territorio, di Alba e di Brahe, non soltanto, che sentivano l'esigenza di spendersi prima persona per organizzare qualcosa di culturale, hanno cominciato a trovarsi per leggere libri insieme, è nato in modo molto informale, ed è nata dalla condivisione di quest'idea di cultura, un'idea della cultura aperta a tutti, una cultura gratuita, con una serie di autori che ci hanno dato fiducia e hanno accettato di venire qui gratuitamente a colloquiare con noi, a dialogare, e questa è stata la prima collisione. Per due giorni, sabato 2 e domenica 3 maggio, il paese di Novello si è trasformato in una sorta di palcoscenico non-stop sul quale scrittori, musicisti e lettori hanno discusso di formazione, di letteratura e del futuro della comunicazione nell'era digitale, in una sorta di sagra popolare della cultura. Agli incontri hanno partecipato, tra gli altri, Alessandro Baricco, che ha dialogato col pubblico partendo dal suo saggio I Barbari, lo scrittore texano Bruce Sterling, ideologo del genere cyberpunk, il musicista di Subsonica, Davide Di Leo, e il disegnatore Sergio Staino, che ci ha parlato del suo rapporto con le nuove generazioni. Per un lungo periodo della mia attività di disegnatore ha coinciso con l'attività di insegnanti ed educazione tecnica in una scuola media di Scandicci. Ho avuto il terrore di lasciare questo insegnamento perché avevo la nettissima sensazione, vera fra l'altro in larga misura, che la maggior parte delle idee e della freschezza delle idee mi venissero da frequentare questi ragazzi. Novello, divenuto paese globale che da luogo del passato e della tradizione diventa punto di partenza per guardare al futuro, ha ospitato per l'intero weekend una folla numerosa appassionata di lettori e visto il successo di pubblico, è lecito augurarsi il più presto un'altra collisione.